Una partita che sembrava non volesse finire mai, una partita comunque bellissima. La mezza la porta a casa dopo due supplementari. Come dico sempre, ogni partita va giocata, va giocata con tanta determinazione. Quelle che hanno fatto vedere i ragazzi di Catanzaro, che hanno avuto voglia di vincere la partita perché è normale che sia così, ma da nostra parte c'era un pochettino meno di atteggiamenti. Quello che manca al gruppo mio. Più atteggiamenti, più determinazione, non sarebbe stato il secondo o quarto supplementare. Billy, prima gara alla Mezzia, fino ad oggi hai giocato a Soverato. Un saluto ai tuoi vecchi compagni di squadra. Adesso, che cosa ti aspetti da questa nuova avventura alla Mezzia? Sì, è vero che mi sono dispiaciuto tanto lasciare i ragazzi di Soverato, ma lo sport purtroppo è così. Ma il mio cuore è sempre con loro. E qua alla Mezzia sono venuto per vincere. Quindi devo vincere, si vuole Dio sempre. Perché ho lasciato i ragazzi a Soverato per venire alla Mezzia per vincere.